non temere genesi capitolo 15 verso 1 nessuna paura l'invito e l'esortazione che ci viene dalla parola di dio è prezioso e importante anche se siamo adulti possono essere tante le cose che ci spaventano la preoccupazione di affrontare un nuovo giorno con le sue insidie le varie difficoltà della vita l'ansia per un problema che non si risolve una risposta tanto attesa che non arriva una malattia particolarmente grave dei contrasti coniugali un grosso problema familiare anche oggi tuttavia il signore attraverso la sua parola quale dio onnipotente rassicura dicendoti non temere caro amico anche se la situazione nella quale ti trovi è ingestibile e non sai che cosa fare non aver paura non temere di nulla perché dio è con te ed è lui che te lo dice lui è il sovrano e si prenderà cura di te come sarà questo nuovo giorno ci saranno grossi problemi da dovere affrontare ci troveremo sopra un letto di malattia noi non lo sappiamo dio però che conosce tutto sarà sempre con noi si prenderà cura della nostra vita e per la sua grazia ci provvederà ciò che ci occorre operando per il nostro bene dio ci benedica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti